Siamo a SMAO Napoli 2021 con Paolo Elia Lombardo di XServizi. Parliamo di sicurezza predittiva, intelligenza artificiale, gestione del rischio in azienda. Quali sono i vantaggi? Innanzitutto buongiorno a tutti. I vantaggi ovviamente di un utilizzo di un'intelligenza artificiale nell'ambito sia del settore pubblico che del settore privato e quella innanzitutto di un abbattimento. Parliamo di una società, la nostra, che ovviamente tratta la tematica della sicurezza, in particolar modo quelli che sono sia reati predatori ma anche tutta una serie di fenomenologie lecite nell'ambito pubblico e nell'ambito privato. Innanzitutto il primo grosso vantaggio che offre l'utilizzo di intelligenza artificiale è quello di un abbattimento di quelli che sono tutti questi fenomeni perniciosi, quindi parliamo di perdite all'interno dei negozi dovute ovviamente da furte all'interno dello stesso, ma ovviamente anche all'abbattimento di reati all'interno delle città, che siano essi centri urbani più grossi o più piccoli. Il secondo grosso vantaggio è quello invece di andare a ottimizzare i costi di gestione delle risorse, pensiamo ad esempio alla turnazione all'interno dei negozi, sia dello staff vero e proprio del negozio, sia ovviamente di quelli che sono gli uomini che partecipano all'attività di porterato e d'accoglienza ed anche ovviamente alla turnazione propria degli agenti sul territorio, nell'ambito delle città, quindi parliamo di polizie locali e anche i propri costi di gestione per quanto riguarda la strumentazione, quindi vetture, usura delle vetture stesse, carburanti e così via. C'è andiamo un po' più nel dettaglio, che tipo di soluzioni offre i servizi a GDO, enti pubblici? Certo, diciamo è una notizia di pochi mesi, in particolar modo abbiamo lanciato una nostra soluzione che è Pelta Suite, che si va declinando in due diverse soluzioni, noi offriamo per quanto riguarda l'ambito rete e le GDO, la soluzione Pelta Sicurezza rete e le GDO per l'appunto, mentre invece per quanto riguarda gli enti locali e in particolar modo le polizie locali, la soluzione Pelta Sicurezza Urbana. Ovviamente essa si presenta come una suite, uno strumento che consente di monitorare il rischio in tempo reale, in ottica predittiva, di quelli che sono i rischi che si possono avere all'interno del proprio negozio e all'interno del proprio centro urbano. Parliamo di uno strumento che va a svolgere un ruolo molto importante, ma soprattutto può in essere una piccola rivoluzione copernicana, perché anziché porre in essere un atteggiamento di rincorsa a quello che è il rischio, a quello che è il danno, noi andiamo un po' a invertire il costrutto strategico, concentrandoci invece sulla prevenzione, che è un tema di cui si parla purtroppo molto spesso, ma che purtroppo in realtà ad oggi non c'è una vera soluzione che offre un cambio di paradigma di questo tipo ed è questa un pochino la nostra mission. Grazie mille. Grazie a voi, gentilissimi, buona giornata. Grazie a voi. Grazie a voi.